A pochi mesi dell'apertura chiude la gestione Manuele Gioielli all'Aclibar di via Battisti 7 della parrocchia di Fornovo. Subentati a gennaio di quest'anno dopo 4 anni della gestione Daniele Sandra, oltre a numerosissime problematiche, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una salatissima bolletta della luce di ben 500 euro per due mesi di gestione. Per correre ai ripari e dare corso ad una gestione più duratura, la parrocchia è dovuta andare sull'Aventino e affidarsi ad un gestore più esperto. Il nuovo entrato dovrà occuparsi anche di dare una maggiore attrazione per i numerosi pellegrini, dai viandanti ai ciclisti, che si fermano a Fornovo con un'accoglienza basata su un buon vitto e un comodo letto per dormire. Pellegrino? Sì, figlia francesiena. Dormire? Dormire? Sì? Sì? Ok. Can I come in? Ok, thank you, grazie. Dalla lettura della bolletta killer dell'Enel in questione riguardanti i mesi di maggio e giugno 2017, emergono dati sconcertanti dove, escludendo circa 52 euro per spese trasporto e gestione di un contatore, da una spesa effettiva di 150 euro di pura energia, i rimanenti 300 euro, circa il doppio del costo dell'energia consumata, sono solo tasse e le elenchiamo una ad una. 146 euro per oneri di sistema, 27 euro per ricalcoli, 3 euro per altre partite, 26 euro nuove ricalcoli, 2 euro imposti e gestione credito, 23 euro accise, 1 euro importi e gestione credito, 90 euro IVA al 22%. Da Voces Populis, il nuovo gestore, dopo una rinfrescata ai locali, dovrebbe riaprire i battenti tra qualche giorno.